Ciao a tutti, spero che stiate bene. Il motivo che mi ha spinto a scegliere la Futura Volley è stata l'energia che mi ha trasmesso fin da subito, come quella di una famiglia, e soprattutto per la loro determinazione, che è quello che sto cercando in questo periodo, soprattutto ora che non vedo l'ora di mettermi in gioco e di poter dare un grandissimo contributo alla squadra. E inoltre, in questo momento sono qui in Costa Lavorio con la mia famiglia, che mi sto godendo gli ultimi giorni, e sicuramente anche questo darà un grandissimo contributo all'inizio di questa nuova avventura, e ora sarò sicuramente carica. Intanto non vedo l'ora di vedere anche i tifosi, che sicuramente ci daranno un grandissimo benvenuto e sono sicura che riusciranno a trasmetterci tutta l'energia durante le partite. Non vedo l'ora di sentire tutti i vostri cori, vi do un grandissimo bacio e ci vediamo. Ciao! Ciao!